Rabila di Parigi è un grande chassid, lui ha visto l'alterebbe e poi ha seguito suo figlio il miterebbe. Il miterebbe chiedeva ai chassidini che dovunque vadano, perché per andare da Rebbe e tornare c'era molta strada da fare, a quei tempi lì si camminava a piedi e si si fermava in molte città, strada facendo. E allora il Rebbe aveva chiesto in ogni posto che i chassidini si fermano di andare e ripetere gli insegnamenti chassidici che hanno imparato da Rebbe, per cui i discorsi chassidici che hanno imparato da Rebbe ripeterli in ogni città e cittadella ebrea. Allora Rabila di Parigi ha chiesto al miterebbe, al secondo Rebbe di Yubavitch, se ripetere questi concetti profondi di chassidut, anche in città che non c'era una gente erudita, c'era gente ebrea, molto semplici, che magari ascoltavano per rispetto perché sono parole di Torah, però non ci capivano niente. E dunque lui si domandava ma che senso ha? Ripetere la chassidut anche a loro. Allora il miterebbe risposto così. L'anima sente le parole di chassidut. C'è scritto Sarebbe letteralmente significa che gocciolano, non esattamente però, dal Libano. In inglese è flowing. Adesso mi scappa la parola in italiano, ma scoroscia come. In ogni caso, la parola Levanon, che significa letteralmente Libano, però in ebraico è composta da due parole, Lev e Nun. Lev è cuore, che significa valore numerico 32, Nun è 50. E dunque il miterebbe spiegato che Lev si riferisce a Chochmah, come c'è scritto Lamedbetneti Vot Chochmah, 32 strade della saggezza, e Nun si riferisce a Binah, che ci sono 50 portoni di comprensione. E dunque queste parole di chassidut, che tu ripeti, l'anima le sente e da questa anima qui, da queste gocce di chassidut, che l'anima percepisce l'anima le percepisce nella sua saggezza e nella sua comprensione, Lev Nun e da lì viene una radiazione che illumina l'anima e che dà vitalità anche al corpo e questo risultato è che uno si rafforza nel fare del bene, cioè osservare le mitzvot positive e si rafforza di allontanarsi dal male, di evitare 365 trasgressioni negative, mitzvot, comandamenti negativi. E dunque se anche uno non capisce queste parole di chassidut, che sono profonde, comunque va a ripetere, per questo avrà un effetto sulla sua anima, la sua anima sì che lo capisce e l'effetto che c'è sull'anima ha un effetto anche sul corpo di fare sì che la persona starà più attenta nell'osservare la Torah e le mitzvot ed evitare i peccati, di avvicinarsi a Dio e non allontanarsi trasgredendo la sua volontà. Secondo Ayom Yom Salam a tutti Nella tefilà del mattino si recita Anna Bechoach In realtà si recita tre volte al giorno il mattino prima di Shacharit il pomeriggio prima di Mincha e la sera quando si fa lo Shema è più in anatomia Questa tefilà è una tefilà di Rabbe Nechunia a Cana è un saggio biblico, una preghiera molto profonda è composta da sette righe alla fine di ogni riga c'è un acronimo di tutte le parole della riga quell'acronimo lì sono dei nomi sacri però non vanno pronunciati vanno solo pensati con la nostra mente e dunque quando noi leggiamo la riga guardiamo quell'acronimo che c'è alla fine della riga ci pensiamo su questo però non lo recitiamo Salam a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.